Si è concluso a parre un intervento importante, quello della riqualificazione di Piazza San Rocco ed è stata anche ripristinata la viabilità in quella parte di Paese, un intervento che era iniziato già in estate. Sì, è un intervento importante, frutto di un buon contributo da parte di Regione Lombardia perché l'intervento in totale è quantificabile in circa 320-330 mila euro. Abbiamo avuto un contributo importante grazie al bando Rigenerazione Borghi Storici di circa 250 mila euro. È un lavoro che non era solo di una riqualificazione della pavimentazione stradale ma prevedeva anche dal punto di vista del percorso fatto un ricongiungimento tra il nostro sito storico, antico che è proprio dove c'è il nostro sito archeologico, con un marciapiede in collegamento con l'attuale centro di Parre Sotto quindi una realizzazione di un marciapiede a salvaguarda anche dei pedoni e delle persone che si avvicinano appunto al nostro sito e per assurdo anche per un certo tratto anche le persone che dal centro di Parre si vanno verso Ponte Selva. È un lavoro come dicevo abbastanza importante ma anche difficoltoso perché oltre al rifacimento della pavimentazione si è provveduto al completamento, sostituzione dell'impianto e delle reti del gas e quindi questo lavoro in un primo tempo ha generato già un po' di problemi anche dal punto di vista della viabilità con la conseguente chiusura parzialmente poi della piazza San Rocco fin quando poi siamo riusciti ad intervenire appunto con la riqualificazione della piazza con delle nuove lastre di Porfido, in tratti lastre di Porfido, in altri tratti con dei cubetti molto importanti quindi non possiamo che essere soddisfatti del lavoro che è stato fatto ringrazio anche l'impresa esecutrice, ringrazio l'ufficio tecnico, ringrazio anche la pazienza dei cittadini di Parre perché quando si chiude una strada con una certa importanza dal punto di vista del traffico crea sempre un po' di disagio, però io penso che poi alla fine l'opera finita sia uscita veramente bella che rende proprio la nostra piazza San Rocco un punto di riferimento, di ingresso del paese e è sempre stato fatto tutto in funzione di un abbellimento ma anche con una certa qualità dal punto di vista storico Senza dimenticare la vicinanza del sito archeologico e anche dell'antiquarium legato appunto al sito in località Castello Sì esatto perché proprio il progetto che ci ha visti vincitori in questo bando di Regione Lombardia prevedeva appunto la valorizzazione anche di queste parti infatti si può notare che è stato rivisto anche l'ingresso è stato messo un cancello in corten con il simbolo del nostro museo, del nostro sito che è una pietra che è stata ritrovata con inciso una scritta cateua che si pensa sia una divinità celtica e quindi richiama tutto questo simbolo, richiama proprio tutto il lavoro che è stato fatto in questi anni per valorizzare 360 gradi sia il nostro sito archeologico che il nostro museo Grazie